Una ditta piacentina ha dato il proprio contributo per non dimenticare le vittime del passato. La SAE Italia S.P.A. di Gariga di Podenzano è stata scelta per collocare il monumento del Memoriale della Shoah a Bologna che sarà inaugurato domani in occasione della giornata della memoria alla presenza delle massime autorità del governo. Il monumento ha ricevuto anche l'elogio di Papa Francesco. L'idea è nata dalla comunità ebraica di Bologna, appoggiata subito da istituzioni e privati cittadini. Per realizzare il monumento è stata organizzata una competizione internazionale che in pochi mesi ha raccolto 284 proposte provenienti anche dall'estero. Il compito di trasportare e collocare la struttura è stato piuttosto arduo per le dimensioni e la posizione. La SAE Italia di Gariga ha impiegato un autogru comportata di 400 tonnellate che è stata posizionata a circa 50 metri dal luogo dell'installazione. Prima dei sollevamenti i pezzi sono stati remossi con dei pattini a rullo verticalizzati. L'attività ha richiesto il supporto di un'altra azienda, la Carpina SRL della provincia di Venezia con la quale l'impresa piacentina ha eseguito lo studio e condiviso la direzione dei lavori. Il monumento, composto da due blocchi di acciaio alti 10 metri che si fronteggiano, è stato posizionato tra via Caracci e il ponte Matteotti. Ai lati orbite che rappresentano le celle dei deportati e il vuoto lasciato da chi li occupava. Il monumento è stato pensato come un magnete per attirare le persone, farle riflettere e discutere. La SAE Italia è tra le aziende leader nel settore dei sollevamenti, trasporti eccezionali e noleggio autogru. Da qualche anno è stata scelta dal Comune di Milano anche per collocare l'albero di Natale in Piazza Duomo.